Il mio nome è Susanna Grassi e sono la vignaiola, sono la titolare dell'azienda. Tutti i giorni metto io con la mia piccola squadra tanta passione, quindi passione nel coltivare le nostre viti, nel trasformare le nostre uve, cercando appunto di fare dei vini che siano un'espressione assolutamente pura del nostro territorio. L'Amolo è conosciuto per le sue antiche terrazze, quindi vigneti terrazzati, e questo è stato sicuramente una parte meravigliosa del lavoro, andare a ristrutturare, ripulire e ridare a loro lo splendore che avevano in passato. La sfida certamente più difficile è quella di far conoscere il vino magari in realtà in paesi a culture che non sono abituati, quindi mi viene in mente in particolare alcuni paesi magari dell'Asia, dove è sempre più difficile farsi capire perché manca appunto un linguaggio comune che è quello del consumo del vino. Ma dietro il vino c'è sempre una bella storia e le persone normalmente sono sempre molto curiose di conoscerla e soprattutto il vino è uno strumento straordinario di comunicazione e quindi mette veramente in relazione persone anche molto diverse.